ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ebbene sì il buon Paolo Maldini ha parlato dopo sei mesi da quel fatidico giugno 2023 ha parlato a ruota libera di tutte e di più non ho letto le sue parole non ho letto l'intervista integrale che leggerò in questo momento insieme a voi ho solo visto quella su instagram un po di virgolettati e mi è sembrato di capire che appunto ha parlato senza peli sulla lingua pur mantenendo la sua signorilità che lo ha sempre contraddistinto in campo e fuori prima di iniziare però ci terrei a farvi vedere la nuova sigla che ho fatto preparare per voi mi raccomando se vi piace lasciate un like e iscrivetevi regia prego tremenda tremenda è bella mi piace quell'occhiolino libero è veramente inguardabile ma mi piace proprio perché è tamarra ed inguardabile parliamo di cose serie ragazzi torniamo seri perché insomma ecco qua ho aperto davanti a me l'intervista chilometrica di Paolo Maldini allora ditemi ovviamente cosa ne pensate delle varie potrei dividere questo video per argomenti così che possiate switchare da una domanda all'altra a vostro piacimento iniziamo la prima Paolo Maldini perché ha aspettato quasi sei mesi per rompere il silenzio dopo il suo licenziamento e quello del ds massara perché avrei parlato troppo di pancia ma ora è maturo il tempo per analizzare quanto è accaduto con quella serenità che la distanza temporale permette mi piace essere onesto e prendermi le mie responsabilità ma vorrei che le cose venissero considerate nella loro effettività e valutate nella maniera giusta quindi non ho parlato subito perché avrà detto probabilmente tante cose sbagliate nel modo sbagliato preferisco aspettare e ora vi dico quanto ho da dirvi prego gli dice il giornalista e lui inizia a parlare a ruota libera sarò per sempre grato a leonardo che mi ha chiamato nel 2018 al fondo elliot che mi ha fatto firmare il primo contratto e a red bird che me lo ha rinnovato anche se con qualche difficoltà vi ricordate quella famosa serata che la firma arriva non arriva arriva non arriva arrivò tardissimo e già quello fu un campanellino d'allarme secondo me considerando poi come sono andate le cose in questi cinque anni ho imparato tanto ho avuto relazioni personali e professionali che mi porterò dietro per sempre e sono anche cresciuto in un ruolo completamente diverso il che non era scontato la regola è che spesso il grande calciatore non riesca a fare quel salto di qualità insomma un po di convenevoli e poi dice ci sono persone che sono di passaggio in istituzioni come il milan nel mondo dei club di calcio di profilo internazionale e che non hanno un reale rispetto della sua identità e della sua storia o giochi qua iniziano le frecciatine non sono incaricate e non si muovono per dare una visione per le nuove generazioni di tifosi spesso sono manager che vengono a lavorare in un grande club di grande prestigio e popolarità anche per migliorare il proprio curriculum aia e poi andare da un'altra parte partono le prime frecciatine signori per contro invece ci sono persone che hanno a cuore tutte queste cose ovviamente parla di se stesso molto più a lungo termine e molto più legate agli ideali che il club nel corso della sua storia ha insegnato a tanti sul campo e fuori purtroppo nel calcio professionistico moderno la popolazione della prima tipologia di persone sta diventando sempre più numerosa io credo che bisognerebbe tenersi stretto chi è portatore di ideali e orienti il proprio lavoro per salvaguardare valori e identità quindi ragazzi non so se avete percepito anche voi questa seconda frecciatina più che frecciatina è una bomba atomica semplicemente dice ragazzi c'è chi ama effettivamente dei colori e chi invece è solo di passaggio il calcio purtroppo negli ultimi anni ma lo sappiamo lo vediamo sempre è sempre più popolato da chi ha solo un mero interesse economico nel gestire una squadra non si aspettava il divorzio gli chiede il giornalista e gli risponde se il milan è stato venduta 1,2 miliardi di euro e la proprietà vuole cambiare l'organigramma ne ha il diritto anche in questo caso però le modalità sono importanti vi ricordate quanto mi sono battagliato non solo io anche tanti altri colleghi creators sulle modalità perché ragazzi la società può fare quello che vuole la squadra è sua può fare quello che vuole può mettere anche non so e giampaolo presidente del milan può farlo perché decide essendone la proprietaria e però le modalità sono state davvero imbarazzanti nel mandar via maldini e lui insomma sottolinea questo aspetto qua e tante cose non sono andate come sarebbe stato doveroso per rispetto delle persone e dei loro ruoli ho dovuto discutere per trovare un accordo e per non rinunciare ai miei diritti ma avevo detto subito alla di furlani che l'ultima cosa che avevo voluto era un contenzioso con il club vi rendete conto gli ho spiegato che sarebbe la seconda causa di una leggenda del club al gruppo proprietario del milan in due anni dopo quella persa con boban quindi lui non voleva una sorta di boban 2 peraltro la sto leggendo malissimo l'intervista scusatemi cercherò di impegnargli un po' di più una cosa è certa dice paolo il mio amore per il milan sarà sempre incondizionato da figlio di cesare da ex capitano da papà di cristian e daniel che al milan sono passati e poi anche da dirigente sono stati cinque anni fantastici anche qui ragazzi frecciatina sulle modalità con le quali è stato cacciato il giornalista dice aggiudicare dei cori per lei nello spettacolo teatrale di giacomo poretti per chi non lo sapesse è stato ospite del del podcast si chiama porecast se non ricordo male qui ha preso parte a milano il pubblico ha capito e paolo dice spesso si pensa che il pubblico non capisca e che si faccia condizionare dalla comunicazione magari studiata a tavolino ma per fortuna così non sembra è inutile nascondere che tutti quelli che hanno avuto a che fare con la galassia milan in questi anni siano stati indirizzati nel veicolare sui media compiacenti una certa storia chi dice il contrario sa di mentire a se stesso io ho pensato agli interessi esclusivi della squadra e perciò del club dal momento che la squadra rappresenta l'asset principale di una società sportiva credendo che i risultati avrebbero avuto la meglio su una narrazione proposta senza curarsi del fatto che corrisponda o meno alla realtà e la verità è che spesso ex calciatori come me boban leonardo hanno sempre esercitato il proprio ruolo in piena autonomia di giudizio ma senza mai travalicare i rispettivi ambiti di competenza aggiungo che questa indipendenza deve sempre contraddistinguere noi stessi che quasi certamente non potremmo farne a meno anche quando assumiamo ruoli o responsabilità manageriali si chiama se non sbaglio professionalità ok qui secondo me fa un riferimento alle critiche che gli erano state un po mosse no quando si diceva che forse lui voleva avere più potere di quel che gli aspettava lui semplicemente risponde a quelle critiche in questo modo secondo giri cardinale l'azionista di controllo del milan ecco ora lo dice lei era un individualista era la critica maggiore nei confronti di maldini allergico al lavoro di gruppo appunto direi che confonde l'individualismo con la volontà di essere responsabile nel prendere le decisioni previste dal mio ruolo e magari nel pagarne le conseguenze trascurando peraltro le prerogative che il contratto che lui ha firmato mi attribuiva quindi diceva non puoi criticarmi che io voglio fare determinate cose che sono scritte nel contratto che sono pattuite nel contratto io non mi sono mai sottratto al confronto il confronto quotidiano stimola l'ingegno e ha previsioni diverse siamo spesso circondati da persone che ci danno sempre ragione avere amici o colleghi che sfidano le tue certezze è una benedizione in questi cinque anni ho capito che la capacità di assumere e gestire le responsabilità personali cioè individuali non è così comune chi ha giocato a calcio ad alto livello ha meno paura di fallire essendo stato giudicato per tutta la vita ogni tre giorni questo rappresenta un grande vantaggio e ha un grande impatto su un'azienda ma può non essere gradito a chi non è aperto al confronto e non condivide neppure l'idea anche di rispondere dei propri errori che per me è normalissima sana dialettica di ogni gruppo dirigente che si rispetti quindi sta un po ribaltando no qui la frittata dicendo sì dicevate a me che ma in realtà eravate voi poco aperti al dialogo ovviamente ragazzi questa è l'intervista di maldini no quindi ora non voglio come dire pur amando maldini non voglio dire che abbia la verità in tasca però insomma vedere anche la visione di maldini che per sei mesi non ha parlato secondo me aiuta anche un attimino no a vedere determinate cose sotto un altro punto di vista sarebbe figo avere proprio un confronto un tv davanti alla dirigenza e a maldini per per saperne di più anche per vedere come rispondono no senza senza giornali di mezzo proprio così vis a vis però insomma i filtri poi possono sempre c'è nel senso le interviste scritte belle per chi non se le gusta eccetera però no il confronto faccia a faccia secondo me regalerebbe più verità perché qui è difficile è ovvio uno legge sti intervisti cazzo maldini ha ragione al cento per cento secondo me tante tante ragioni ce le ha tante ragioni ce le ha poi come lui stesso dice fa autocritica dice sbagliato tanto anch'io però insomma capiamo dove ho sbagliato e capiamo dove invece non ho assolutamente sbagliato io sempre voglia di imparare alcune cose del passato ad esempio alcune critiche del milan oggi non le farei più perché ho capito che cosa vuol dire gestire l'area tecnica di una società ambiziosa a livello globale nello sport professionistico da che cosa erano dettate quelle critiche incalza il giornalista più dal sentimento che dalla ragione sinceramente dalla poca esperienza qui ad esempio fa mea culpa dice magari di aver sbagliato in passato per la poca esperienza e perché magari si faceva prendere troppo dal dall'amore per il milan certe dinamiche fino a quando non sei dall'altra parte non puoi capirle il primo anno l'ho passata ad ascoltare ed imparare era apprendistato nei primi sei mesi mi sentivo inutile ma leonardo mi diceva stai solo imparando non è facile avere come interlocutore un fondo americano o un CEO sudafricano la mia visione del calcio rispetto al 2018 è stata stravolta ma lo ripeto non ho mai avuto ne avrò mai paura del confronto quindi qua ribadisce che in realtà lui ama lavorare nel gruppo anche quando ci sono dei distri interni che spesso aiutano a crescere e sul mercato qui si va nel concreto ragazzi è stato veicolato il concetto che io e massara siamo stati allontanati perché non condividevamo obiettivi e strategie di mercato niente di più lontano dal vero anche in un post da un punto di vista formale infatti se parliamo delle condizioni di ingaggio non ho mai avuto potere di firma neanche per i prestiti ogni giocatore che è stato preso è stato scelto da me boban e massara ogni scelta condivisa con la d e con la proprietà ma la firma era sempre di qualcun altro che avallava l'operazione più o meno sono 35 40 giocatore del nostro ciclo e io non ho firmato i contratti per nessuno di loro neanche per quelli in prestito perché non avevo potere di firma non l'ho mai voluto anzi tante soluzioni proposte non sono state approvate mi è stato detto di no tantissime volte capita a volte mi diciamolo semplicemente di no a volte veniva ridimensionato il budget nelle riunioni sentivo spesso io non capisco niente di calcio ma alla fine c'era sempre un però non sono nati ieri ho abbastanza esperienza per capire che sia normale una certa differenza di vedute a volte anche un'interferenza da parte della proprietà nelle scelte tecniche dell'area sportiva che poi nel caso specifico è il core business dell'azienda tale da spostare gli equilibri finanziari tuttavia essere accusato di non aver voluto condividere non lo trovo affatto giusto e poi io penso che le proprietà specialmente se straniere non abbiano ancora raggiunto una piena consapevolezza di quali siano le mo di quali siano la mole e il tipo di lavoro svolte all'interno del club delle varie aree in particolare quella sportiva soprattutto nel mercato italiano preciso che tutti i giocatori che sono che sono arrivati sono stati approvati da me non mi è stato mai imposto niente e nessuno anche perché ne sarei andato anche perché me ne sarei andato il giorno dopo per lo stesso ingaggio di slatan a suo tempo erano servite parecchie riunioni quindi ragazzi qui ribadisce il fatto che lui ha sempre condiviso le sue scelte di mercato a volte sono state approvate alla società altre volte no a proposito di braimovic pensa che tornerà al milan non lo so non conosco i termini della questione né l'eventuale ruolo leggo che sarebbe indicato come consigliere personale di cardinale quello che gli posso suggerire di seguire il mio stesso percorso all'inizio sarebbe logico osservare e imparare prima di agire anche se la ferita sarà dolorosa può tornare a quel 5 giugno fatidico gli chiede il giornalista qua la risposta mi interessa ragazzi allora gerry cardinale mi ha chiamato per colazione e dopo un commento sull'addio al calcio giocato di slatan mi ha detto che voleva cambiare e che io e ricky massara eravamo licenziati immaginate la scena loro che inzuppano il biscottino slatan peraltro è andato via a proposito tu e massara via dalle balle gli ho chiesto perché e lui mi ha parlato di cattivi rapporti con furlani allora io gli ho detto ti ho mai chiamato per lamentarmi di furlani mai c'è stata anche una sua battuta sulle semifinali di champions persa con l'inter ma diciamo che le motivazioni mi sono sembrato un tantino deboli le cosiddette assumption gli obiettivi sportivi ed economici di inizio stagione erano state clamorosamente superate non so però quale battutina faccia riferimento qui perché non se qualcuno se lo ricorda ragazzi come sempre a quali erano hanno qua fa riferimento alle in champions pensava alla frecciatina ipotizzando l'eliminazione della della champions qualificarsi per la champions successiva e passare un turno in europa league quindi aspettative clamorosamente superate visto che il minan in qualche modo è arrivato in champions pur essendo arrivata in realtà quinto in campionato ma con la penalizzazione della juventus si è qualificata per la champions attuale ed è arrivata la scorsa champions in semifinale il club dava per scontato che in champions la squadra non avrebbe passato la fase a gironi chiede il giornalista erano previsioni molto conservative che tra l'altro sono sta sono state riconfermate quest'anno anche dopo la campagna acquisti importante di quest'estate ma nella scorsa stagione a livello economico la semifinale ha portato almeno 70 milioni di introiti in più oltre all'indotto derivante da sponsorizzazioni e ticketing settori in cui abbiamo battuto record sul record non è un caso che poi l'ultimo bilancio porti il segno positivo quel bilancio è riferito alla stagione 2022 2023 siamo andati ben oltre il risultato sportivo era impossibile impuntarmi era impossibile impuntarmi di non aver centrato ah no scusate era imputarmi non impuntarmi era impossibile imputarmi di non aver raggiunto di non aver centrato gli obiettivi perché appunto è andato tutto ben oltre le più rose aspettative cardinale cepiva cardinale l'ho incontrato disfuggito in occasione di qualche partita di champions ma nell'arco di un anno ho avuto solo una chiacchierata su come andasse la gestione sportiva mazza c'è con cardinale praticamente in un anno ha chiacchierato una volta bene mi ha scritto quattro messaggi per vari passaggi per i vari passaggi del turno senza neanche chiamarmi la prima cosa che mi ha detto quando ci siamo conosciuti è stata che doveva che dovevamo fidarci l'uno dell'altro ancora prima di conoscerci di più perché non avevamo tempo io mi sono fidato e sinceramente come è andata è nota a tutti io credo che la decisione di licenziare me massara fosse stata presa molti mesi prima a posteriori mi vedo costretta a riconsiderare il rapporto con alcune persone persone e qui penso che faccia riferimento a chi cazzo fa riferimento qua fatemi rileggere eh sì perché se prima parlava parlava sì cardinale parlava di cardinale ragazzi a posteriori mi vedo costretto a riconsiderare il rapporto con alcune persone che lavorano con me e che sicuramente mi riesce difficile immaginare il contrario non ho già correnti ah ok no scusate qua fa riferimento ad alcune persone vicine a maldini a lui stesso che secondo paolo già sapevano ma non gli hanno detto nulla d'altronde il contratto di due anni con opzione di rinnovo mi era stato rinnovato solo il 30 giugno 2022 alle 22 credo che all'epoca sarebbe stato troppo impopolare mandarci via perché avevamo appena vinto lo scudetto ok lui dice avessero potuto mi avrebbero cacciato già subito dopo lo scudetto ma l'avrebbero fatto troppo sporca tra le righe dice questo che cosa le disse la società cardinale voleva vincere la champions io gli disse che era necessario un piano triennale ma forse anche decennale per pensare a quell'obiettivo e lui mi propose due anni più opzione di uno in quel momento chiesi due anni pensavo che ci sarebbe stato tempo dopo per discutere di piani se poi fosse stato contento mi avrebbe proposto il rinnovo lui è vero che a febbraio 2023 le aveva presentato un piano triennale di sviluppo verissimo in 3-4 mesi da ottobre a febbraio l'ho preparato con massara e con un mio amico consulente erano 35 pagine raccontavo i quattro anni trascorsi e gli obiettivi secondo una strategia sostenibile economicamente ma con la necessità di un salto di qualità il famoso salto di qualità che insomma al quale maldini faceva sempre riferimento nelle interviste quante volte no anche quando si andava avanti in champions gli ottavi quarti semifinali ha sempre parlato di un gap clamoroso tra il milano ovviamente ma in generale il calcio italiano e le big europee risposte chiede il giornalista nessuna benissimo ho mandato il piano a cardinale a due suoi collaboratori molto stretti con uno dei quali si tenevano colla settimanali ogni lunedì alle 18 e alla di furlani non ho ricevuto alcuna risposta bene forse non abbiamo ascoltato il campanello d'allarme perché eravamo concentrati sulle tante cose che il mio ruolo e quello di massara prevedevano prevedono dopo aver acquistato circa 35 giocatori ci viene contestato l'ingaggio di De Chetelare che peraltro aveva 21 anni un'età in cui non sempre l'adattamento è immediato chi ha giocato a calcio sa che non sempre si è strutturati a quell'età per sostenere un salto così importante come quello fatto da Charles i ragazzi vanno aspettati aiutati coccolati e ripresi continuamente chi pensa che il lavoro dell'area sportiva sia solamente quello di fare mercato sbaglia tutto allenatori calciatori e staff hanno bisogno di un supporto continuo e qui ovviamente Maldini viene anche dalla scuola Carlo Ancelotti quando c'era mister Carletto il rapporto che aveva con i calciatori era praticamente quasi padre figlio forse senza il quasi e quindi d'accordo con lui che insomma il suo ruolo non si limita di certo al acquistare o cedere giocatori spesso si scommette solo sul talento senza sapere come si come svilupparlo gli esempi più lampanti sono Chelsea e Manchester United grandissimi investimenti sul mercato e gestione insufficienze portano insufficiente gestione insufficiente portano risultati molto scadenti non sempre il talento viene riconosciuto quando si scommette su potenzialità di ragazzi giovani il rischio di insuccesso è molto alto dopo appena tre mesi di lavoro Boban e Massara ed io fumo chiamati a Londra da proprietà e CEO e praticamente esautorati delegittimati ad esercitare i nostri ruoli perché i vari Leao Benasera e Teo non piacevano non sapevamo che noi sapevamo che il Leao del Lille poteva diventare una stella ma che gli sarebbe servito un percorso e la stessa cosa valeva per Teo Ismael e per tutti quelli che sono arrivati successivamente ricordiamo sempre da dove siamo partiti quindi capito ragazzi dopo tre mesi vennero chiamati a Londra per per chi insoddisfatti di Leao e Teo e poi insomma la storia sappiamo come è andata a finire sappiamo quanto sono importanti adesso questi giocatori per il Milan poi altra domanda scusate qua mi sono perso la domanda vuole riassumere dice il giornalista nel 2018 2019 avevamo una squadra avanti con gli anni e poco performante erano ormai sei anni che il Milan non si qualificava per la Champions League il valore complessivo della rosa era di circa 200 milioni e il monte in gaggi di 150 la ristrutturazione con giocatori giovani è stata fatta in quattro anni con una spesa al netto dalle cessioni di 120 milioni 30 stagioni e 15 per sessione tra mercato invernale e mercato estivo il valore della rosa è passato a circa 500 milioni quindi più che raddoppiato il monte in gaggi è sceso il primo anno a 120 e poi a 100 per i successivi tre anni anche se come spiegavo nel piano strategico il taglio degli stipendi aveva portato al mancato rinnovo di giocatori come Cialanoglu e Chiesi con i quali avremmo avuto un centrocampo tra i più forti d'Europa ragazzi qua il discorso no poi si riaprono vecchi discorsi del passato ce l'hanno non rinnovato è passato per Pirla anche Maldini stesso discorso perché sì però ragazzi capite che un po quello che si diceva a Galliani no che veniva spesso criticato che comprava i parametri zero ma non è che lui voleva comprare i parametri zero era Berlusconi buonanima che all'epoca ha una certa ha detto basta non si spende più per il Milan perché sicuramente già voleva vendere quindi Galliani era costretto a prendere il giocatore a parametro zero stesso discorso qui per Maldini non è che lui a lui faceva schifo Donnarumma Cialanoglu o Chiesi se la società dice dovete ridurre gli ingaggi e i vari Cialanoglu che si volevano un ingaggio più alto è chiaro ragazzi che Maldini aveva le mani legate poi lui si becca tutte le critiche perché fa un po da scudo non viene visto come il responsabile però obiettivamente perdere Donnarumma Cialanoglu che sia a parametro zero cioè difficilmente cioè difficilmente immaginavo che questi fossero errori di Maldini cioè se la società ti impone diverse cose devi rispettarle vedete che poi la verità col tempo vengono sempre a galla alla fine della stagione scorsa contavamo tre partecipazioni di fila la Champions League uno scudetto vinto dopo undici anni una semifinale di Champions dopo 16 anni un bilancio in positivo dopo 17 se si resta sempre sul filo basta sbagliare una stagione per rovinare il lavoro fatto in quelle precedenti qui l'ho sempre detto ragazzi il Milan con Maldini ha avuto ha avuto una crescita i numeri lo dimostrano e quello che abbiamo conquistato lo dimostrano il ciclo Maldini c'è stato poi molti confondono il ciclo per forza con scudetti trofei vinti no il ciclo sta nel crescere sempre e non sto qui a fare la conoscura del Milan degli ultimi anni fino allo scudetto perché non voglio essere ripetitivo qual è il budget per il 2023 2024 chiede il giornalista nelle squadre di calcio in genere la previsione di budget va affrontata intorno a marzo ma il mio settore tra l'altro il più importante era l'unico per il quale non se n'era ancora parlato più volte ho chiesto un incontro per parlare di numeri e strategie dato che non si può aspettare giugno per programmare il mercato poi quattro giorni prima del licenziamento furlani mi ha comunicato molto imbarazzato che il budget sarebbe stato molto basso a prescindere da come è finita io sono contento che il Milan e i suoi tifosi per almeno sono contento per almeno due cose il budget di spesa sul mercato dopo la nostra partenza è finalmente raddoppiato al netto della cessione di tonali e il monte in gaggio è finalmente cresciuto in linea con il piano che avevamo inviato il nostro documento strategico deve essere diventato improvvisamente fonte di ispirazione ok quasi toglie qualche sassonino dalla scarpa dice ok quando l'ho mandato io non mi hanno cagato mi hanno cacciato ho visto che è aumentato il budget a disposizione per la squadra aumentato anche il monte in gaggi avreste mai ceduto avreste mai ceduto tonali avremmo fatto tutto il possibile per non lasciarlo andare via anche di fronte a un'offerta così importante non siamo mai stati totalmente contrari alla cessione di uno dei nostri calciatori più importanti ma non c'era neanche una reale necessità anche qui ragazzi quello che dissi quest'estate no per carità i soldi fanno gola 80 mili i soldi che hanno dato per tonali erano importanti va benissimo però io ho sempre detto forse preferivo tenere l'ossatura l'ossatura e cercare di rimpolpare quella roba lino invece dando via tonali per carità i soldi sono stati rinvestiti abbiamo preso comunque giocatori importanti tutto quello che volete però non era non era una necessità considerando anche i conti i conti a bilancio mi piace ricordare che spendemmo per acquistarlo una cifra pare a circa un quinto delle valore di gestione di dominio pubblico e che anche in quel caso dovemmo discutere animatamente consigli e proprietà nessuno di loro voleva comprarlo anche l'area scouting anche qui si toglie un bel sassolino dalla scarpa dice avete preso un sacco di soldi con un giocatore che neanche volevate poi tonali incappato nelle scommesse dice il giornalista paolino risponde sono rimasto scioccato mi dispiace non mi sono reso conto del suo disagio questo mi fa capire una volta di più che non si fa mai abbastanza per cercare di gestire e capire questi ragazzi è una sconfitta anche per noi quello che è successo a sandro colpa dei social ai giocatori dicevo spesso di distinguere la vita reale da quella dei social anche quando si sentono attaccati offesi da un mondo senza regole si deve aspirare a qualcosa di più radicato e profondo anche se il sentiment una parola che ho sentito spesso a casa milan e che mi fa sorridere magari è un altro di sicuro come abbiamo detto precedentemente acquisti e cessioni sono solo una piccola parte del lavoro dell'area sportiva ok scusate mi si è chiuso il file world qual è quello meno appariscente dice il giornalista riferito al lavoro dell'area sportiva il lavoro con i giocatori con le auto tutti a vernandez benasser megnanca lulu ciao tomori e molti altri il vero lavoro è stato supportarli nel loro sviluppo se noi pensiamo che i giocatori non abbiano bisogno di supporto sbagliamo sinceramente quando oggi leggo che teo e le house nel prunale del milan dico che al mondo si può davvero raccontare tutto il contrario di tutto sono dei campioni ma la loro crescita non è ancora completata e necessitano di qualcuno che li aiuti i giocatori hanno bisogno di tempo per maturare e di persone che parlino con loro e direi anche che parlino la stessa lingua perché insomma un conto è sentirsi dire determinate cose da chi col calcio non c'entra un cazzo un conto invece se te lo dice paolo maldini e anche il bello del nostro lavoro è il frutto della nostra esperienza appunto esperienza spesso ho fatto mente locale pensando a me quando ero calciatore allora non si usava ma avrei voluto tantissimo ma avrei avuto tantissimo bisogno di supporto d'altronde se l'equazione tra la spesa del mercato il risultato fosse corretta e infallibile psg celsi e manchester united avrebbero vinto tutto più volte ragazzi qua come 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 dare torto no non è non è così algebrico il tutto vi ricordo il psg con messi imbappé e nemar messi e nemar comunque momento clou della carriera champions non ne hanno viste e non ne hanno vinte nel milan attuale manca una figura del genere tutto ricade sulle spalle di pioli innanzitutto dice il giornalista e lui paolo risponde innanzitutto stefano andrebbe ringraziato sempre ai tifosi milanisti il suo lavoro è stato fondamentale per la crescita dei giovani calciatori che sono arrivati al milan li ha fatti giocare li aiutati a diventare quello che sono adesso è stata una figura chiave delle nostre fortune quindi insomma da da stefano qualche di stefano il buon maldini vorrei ricordare però che l'allenatore è una tra le persone più sole del mondo del calcio dagli compiti che esulano dai suoi lo renderà sempre più solo e non verrà sopportato quindi discorso di pioli manager a quanto pare era una scelta poco condivisa da maldini chi lo sa magari anche questo potrebbe essere uno dei motivi di dibattito con la società avrebbe voluto sostituire pioli compirlo gli chiedono il ruolo di responsabile della tecnica nel settore sportivo impone di avere incontri e confronti frequenti sono un momento di crescita generale se avvengono contoni rispettosi come è sempre successo ci stavamo già confrontando per la stagione successiva siamo stati noi a rinnovare il suo contratto quello di pioli intende fino al 2025 perché lo meritava se ci fosse stata come negli anni passati un'unità di intenti e visioni con gli obiettivi societari non vedo perché l'avremmo dovuto cambiare quindi qua diciamo che come dire sgonfia un po quella roba che era venuta fuori dove lui voleva assolutamente pirlo poi vi ripeto ragazzi sono le parole di maldini che insomma è ovvio che è la sua intervista non potete mica dire però come dico sempre penso e spero nella buona fede di maldini al dire le cose come stanno e sono sicuro di questo il presidente del milan paolo scarone ha dichiarato che senza di lei adesso il gruppo di lavoro è unito mi dà fastidio come si raccontano le cose il milan amerita un presidente che faccia solo gli interessi del milan ai 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 signori bolide anche per scaroni insieme a un gruppo dirigenziale che non lascia mai la squadra sola altro bolide tra le righe sta dicendo lasciano la squadra da sola la condivisione il supporto sono principi di attuare da attuare nei momenti belli come in quelli brutti in questi anni non ho mai percepito una chiara condivisione di che cosa voglio di voglia dire lavorare di squadra non mi ha mai chiesto se ci fosse stato bisogno di due parole di incoraggiamento ai giocatori e al nostro gruppo di lavoro in pubblico o in privato mai ho ricevuto supporto nei tanti momenti difficili ai ai ragazzi anzi in tribuna l'ho visto anzi in tribuna l'ho visto spesso andare via quando gli avversari pareggiavano o passavano in vantaggio ma magari solo per non trovare traffico ragazzi ma questa questa non è una brecciatina non è una bomba questa è la terza guerra mondiale cioè sto volando ragazzi mentre me lo ricordo mentre me lo ricordo puntualissimo in prima fila quando abbiamo vinto lo scudetto mazza per questo non so che cosa sia voluto per questo non so che cosa si sia voluto dire con l'espressione gruppo unito senza di me ammazza ragazzi ammazza che risposta ma è evidente che io ho un concetto diverso di condivisione di gruppo posso dire che la stessa cosa è venuta anche con i due si io e gazzidis e furlani ammazza ragazzi che che risposta è questa per essere la più piccata in assoluta che cosa pensa dei famosi algoritmi moneyball quella roba lì la narrazione su questo tema mi ha fatto un pochino sorridere non c'è bisogno di scomodare gli algoritmi per prendere per prendere l'officek pulisik e ciukwese basta utilizzare per il mercato i soldi che una società che finalmente fattura 400 milioni di euro merita della serie prendere quei giocatori non c'è bisogno di chissà quale quali analisi statistiche basta avere i soldi e poterseli permettere non si possono paragonare le quattro annate precedenti con l'ultima abbiamo combattuto sul mercato con armi diverse ma mi fa piacere che adesso non ci sia più il freno a mano tirato freno a mano scusate tirato detto ciò abbiamo sempre utilizzato l'intelligenza artificiale strumento ormai indispensabile in qualunque attività senza tuttavia pensare ragionevolmente che una società sportiva possa essere gestita da un algoritmo le molteplici variabili del calcio non lo consentirebbero e forse per questo che ancora questo sport ha passione a milioni di persone quindi dice l'intelligenza artificiale la usavamo anche noi ma non pensi non penso dice maldini che possa essere no il fulcro di ogni decisione e prima ragazzi togli qualche sassolino anche su sul mercato dice quando c'ero io praticamente non c'erano soldi si campava e si tirava a campare mentre adesso sono contento che non ci sia più il freno a mano tirato lei ha detto di avere imparato ad apprezzare la cosiddetta sostenibilità dice il giornalista sì è stata una sfida la sostenibilità mi ha conquistato avevamo poche possibilità di riuscita ma è stato molto sfidante tagliare del 30 per cento il monte in gaggi rinnovare la rosa e aumentare il valore dei calciatori arrivando allo scudetto e a tre anni di champions dopo sette anni senza l'ho fatto con boban e massara attraverso condivisione di principi di conoscenza ed esperienza ed utilizzando anche strumenti legate alle statistiche che io e zvon conoscevamo meno rispetto a righi pensiamo che siano parte di una decisione finale che deve essere presa da persone che abbiano visione completa ok capitolo stadio il nuovo stadio davvero così centrale per il salto di qualità lo stadio è stato un motivo di scontro io non potevo mettere la faccia su un progetto da 55 60 mila posti quasi tutti corporate e con pochissimi biglietti popolari non potevo lasciare un'eredità così alle nuove generazioni milaniste non potevo supportare questo piano ho lottato per fare capi per far capire che serviva uno stadio più grande e con parte dei posti accessibili a tutti la media di oltre 70 mila spettatori a san siro la scorsa stagione dimostra che avevo ragione quindi lui era contrario ad uno stadio più piccolo qual è la sua idea sempre per quanto riguarda lo stadio un nuovo sanzino moderno e accogliente è fondamentale l'idea che lo stadio nuovo dia 80 milioni in più da investire sul mercato e da rivalutare come dimostra i numeri della stagione scorsa quando raccontavo le potenzialità e l'unicità che ha il milan rispetto ad altri club probabilmente suscitava ilarità ma io so che è così se ci fosse la possibilità in questo e in questo il sindaco assolutamente responsabile lo stadio lo farei a san siro magari ancora con l'inter dopo cinque anni non solo non c'è il primo mattone ma non sappiamo neanche dove si farà lo stadio non mi sembra un gran successo quella del nuovo sta del nuovo san siro sarebbe anche una grande occasione per la rivalutazione dell'aria è verde destinato ai cittadini di una zona di milano che rischia l'abbandono milano negli ultimi anni negli ultimi dieci anni è ridiventata trainante in europa perché abbiamo superato vecchie barriere mentali dobbiamo avere paura del degrado non del futuro l'attuale san siro è iconico ma rendiamoci conto che sono stati i grandi campioni che ci hanno giocato a renderlo tale è ancora fantastico dal punto di vista sportivo ma serve una nuova storia il passato è passato milano ha sempre guardato al futuro nel passato dice il giornalista il milano aveva molti giocatori italiani e qui si tratta un altro tema molto delicato i ragazzi italiani devono avere più coraggio devono darsi una mossa se occorre devono andare anche a giocare di più all'estero dove i giovani vengono buttati nella mischia li fanno giocare e loro devono dimostrare di essere all'altezza in italia li teniamo spesso nella bambagia conferma di aver pensato a messi dice il giornalista confermo che ci abbiamo pensato dopo il barcellona era libero e il club ha fatto bene il club scusate ha fatto fare una proiezione sull'indotto del suo ingaggio era un'operazione fattibile ci avrebbe aiutato il decreto crescita ne valeva la pena ma quando ho sentito leonardo ci ha detto che l'affare col psg era già molto avanti ed è rimasta solo un'idea tant'è che poi andò al psg paolo maldini dirigenti in arabia saudite sono una suggestione per il mio lavoro le alternative al milan sono molto limitate non potrei mai andare in un'altra squadra italiana meno male eventualmente valuterei solo l'offerta di una squadra straniera di alto livello a me piace vincere e costruire la rabbia potrebbe essere un'opzione stimolante chissà ok siamo alle battute finali ragazzi resterà nella world wefa di ex campioni allenatori per le riforme tecniche del calcio sì l'idea di boban è azzeccata continuerò nel confronto tra arbitri capi arbitri ex calciatori allenatori su determinate regole mi ha impressionato la quasi umanità dei calciatori con grande sorpresa degli arbitri il distacco è evidente la prospettiva è diversa il calciatore capisce l'intenzionalità del gesto l'esempio è il fallo di mano il 95 per cento di allenatore ed ex calciatori la pensano alla stessa maniera io sono per interrompere la partita il meno possibile lo spettacolo non è interrompere però si deve imparare ad accettare anche l'errore quanto agli infortuni si gioca troppo ma la voce del calciatore non viene mai ascoltata dai 10 ai 41 anni al milan da giocatore dai 50 ai 55 da dirigente la storia si è davvero interrotta tra maldini e milan non so il legame è troppo forte e tale resterà per sempre la storia non si può cancellare non credo che da dirigente avrei lavorato da un'altra parte non avrei iniziato altrove a fare il dirigente nove anni dopo avrei smesso di giocare non stavo aspettando l'offerta la vita va avanti c'era stato qualche abboccamento con barbara berlusconi e poi con fassone mirabelli se fossero arrivate le giuste condizioni avrei forse accettato e così è stato con e così è stato con eliot io voglio solo dire grazie alla vita che mi ha dato questa opportunità e al milan che per l'ennesima volta mi ha dato la chance di fare qualcosa che mi ha dato una soddisfazione personale relazionale che mi ha riempito il cuore provo affetto per quello che è stato costruito per i ragazzi che abbiamo preso e plasmato per i loro genitori o ricordi indelebili con persone di alto livello morale leonardo zvon ricky virna angelo marina e antonia sono per citare alcuni anche gli altri sanno che rimarranno sempre nel mio cuore cuore poi arrivato il 5 giugno chiude il giornalista giusto per rimettere il dito nella piaga e lui dice e adesso leggo la rappresentazione di una nuova era di un berlusconi 2 un ripastino della storia italiana politica imprenditoriale degli ultimi 40 anni forse farebbe bene a tutti l'ho detto quel giorno stesso prima del mio congedo oggi comandate voi ma per favore rispettate la storia del milano